Settimana della cucina italiana nel mondo, grazie Gino Sorbillo, grazie a voi, per portare in alto i colori del nostro paese, poi il tricolore è fatto con i colori della pizza, bianco e questa mi sembra una burrata, l'aglio anche per la marinara, per esempio il rosso del pomodoro, poi il bianco anche della farina e il verde chiaramente è il basilico. Sette giorni di maratona, sette grandi pizzaioli, quattro italiani, tre stranieri, Gino Sorbillo, Franco Pepe, Renato Bosco, Gabriele Bonci e quindi tu rappresenti il sud, la Campania, ma soprattutto oggi ti superi perché hai pensato alla Puglia. Sì, perché mi piace molto la Puglia. Allora, in questo caso, eccola qua, dopo una stesura fatta a regola d'arte, per come stendiamo noi la pizza napoletana, vedi, lasciando i cornicioni belli alti, no? Ok. Per farli poi rigonfiare in cottura. Quindi questa, scusa Gino, è la classica pizza napoletana della tradizione, ma che si ispira a un'altra regione. Alla Puglia perché? Perché dopo, appunto, aver messo il pomodoro, mettiamo giusto un filo di olio straordinario pugliese e andiamo in cottura. E andiamo in cottura. Va solo una volta in cottura? Solo una volta. Perfetto. Quando ultimi, ok. Ok. Dopo la cottura, praticamente, carotinto, quindi abbiamo di base un olio e pomodoro, no? La si potrebbe definire così. Ho anche un po' la base della pizza marinara, perché se avesse, appunto, l'origano e l'aglio diventerebbe una pizza marinara. Invece, in questo caso, cosa facciamo dopo la cottura? Andiamo ad aggiungere una burrata, appunto, pugliese e il capocollo di Martina Franca, quindi, ovviamente, qualche fogliolina di basilico. Quindi l'opera d'arte è completata e abbiamo uno, due, tre olio burrata e capocollo pugliesi. E anche il pomodoro, poi, pugliesi. Beh, secondo me, la marinara possiamo dire che è nata a Napoli? Sì, la marinara è la margherita. La marinara un tempo, ancora oggi, in qualche, presso qualche pizzeria della tradizione, ha il pescato del giorno, ma un po' il pescato d'occasione, sai, un po' di frattaglie, così. Poi col tempo, anche nel mondo della pizza, c'è stata un'evoluzione, però la pizza nostra e tante pizze, di coloro che sono fermamente legate alla tradizione, non dimenticano mai da dove sono partiti. Quindi, nonostante l'evoluzione, che è nato ancora, per fortuna, e sarà sempre così, della pizza, diciamo, nel mondo delle forme di pizza, però sappiamo bene da dove arriva e si lavora molto sul passato, capito? Per fare meglio il presente e meglio il futuro. Ok, andiamo in cottura. Andiamo in cottura. Bene, ecco Gino, la pizza dedicata alla Puglia è pronta. Eccoci qua, ho detto qui, bellissima. fantastica. Sì. Ma è fatta col goniometro? Sì, sì, col compasso. Col compasso? Sì. Ti piace? Sì. Che dice? Allora, adesso abbiamo qui la nostra specialità pugliese. La burrata. La burrata. Questa te l'hanno mandata da Andrea? Sì. A proposito di territorio. Andiamo a prenderci il cuore della burrata. Guarda, questa pettola che racchiude questo cuore bianco cremoso. Guarda. Ok. Andiamo un po', mi piace utilizzarla sfilacciata. Eh sì. Quindi andremo a sfilacciarla per avere subito un contrasto rosso-bianco. Così. L'importanza del territorio, no? Sì. Perché poi all'estero possono fare, o perlomeno provare a fare, anzi, a replicare, la pizza, che lo ricordiamo è italiana. Però manca la materia prima. Guarda, si comprano i prodotti italiani, sì. Però l'aria di Napoli, il sole, è vero che è importante anche l'acqua. La maestria, l'acqua, la memoria. Non è soltanto un fatto, cioè sono gli ingredienti, però come vengono utilizzati, quello che si conosce degli ingredienti, il rispetto della provenienza, della tradizione, del lavoro fatto da tanti uomini e tante donne che così come noi, diciamo, pizzaioli, abbiamo tramandato e abbiamo fatto sì che questa pietanza, questa specialità arrivi così, sia arrivata così intatta ai giorni nostri, no? Anzi, evoluta, migliorata e conquista più si va avanti sempre di più il mondo. Così tanti uomini e tante donne che producono queste eccellenze italiane hanno lavorato sodo per arrivare così perfetti ai nostri giorni. E questo è un lavoro che anche noi pizzaioli dobbiamo, come dire, noi della ristorazione, riconoscere e rispettare. E abbiamo la grande responsabilità di scegliere, di andarci a ricercare, a cercare queste grandi storie da portare sulla nostra pizza. Queste storie, anzi, vedi, ci aiutano a fare una pizza migliore. Guarda che bella. Ancora prima di mangiarla già hai una decorazione e una bontà nel piatto da vedere. Poi bontà fa rima con semplicità, ma anche con felicità. Tu poi con le rime sei specializzato. La pizza è una cosa semplice che ci rende felici. Sì, è una cosa semplice che deve avere una sua identità. Guarda che bella. Che dici? Abbiamo la Puglia sulla pizza, la Puglia nel piatto. Allora, brindiamo al sud. Questa è la pizza firmata da Gino Sorbillo per la settimana della cucina italiana nel mondo. Vendiamo un vino italiano. Grazie a Gino Sorbillo. Salute alla pizza. Pizza uguale Italia.